A Trani la consegna di una pedana per l'accesso al mare alla presenza di autorità rappresentanti dell'Associazione Orizzonti e dell'Osservatorio Comunale sulla barriere architettoniche. Un importante obiettivo raggiunto che parla di superamento di limiti strutturali della creazione di una città accessibile a tutti, espressione dell'accordo tra l'amministrazione comunale e il nono reggimento Fanteria Bari che si è occupato fattivamente del ripristino della struttura. Chiaramente non posso che ringraziare l'esercito per l'aiuto che ci ha dato nell'offrire, nel donare questa piattaforma alla città. Su questo stavamo già lavorando da tempo anche grazie all'Osservatorio per le barriere architettoniche con il quale stiamo cercando di pianificare l'abbattimento delle barriere architettoniche in diverse zone della città. Questa è la riprova, la sensibilità da parte dell'amministrazione ma soprattutto devo dire la verità il grande ringraziamento dell'amministrazione all'esercito per questa iniziativa, un'iniziativa stimolata appunto da Orizzonti dall'Osservatorio per l'abbattimento delle barriere architettoniche sicuramente una grande iniziativa e un passo in più verso realmente l'abbattimento delle barriere architettoniche. stiamo cercando di realizzare una città realmente accessibile a tutti. Questo è dovuto alla sensibilità di ognuno di noi, sia esercito sia, come dicevo poc'anzi, dell'amministrazione comunale. Noi siamo qui e siamo sempre a disposizione del cittadino chiaramente per cercare di migliorare e dare il nostro contributo. Non è soltanto oggi ma siamo una risorsa, siamo una risorsa del Paese e quindi se ci vengono fatte le richieste precise noi siamo disponibili chiaramente nei limiti delle nostre disponibilità. Un'opera questa sollecitata dall'Associazione Orizzonti è finalizzata a rendere fruibile l'arenile e l'accesso al mare per le persone con difficoltà. Ripristinata quindi la struttura in legno presente sull'arenile di Piazza Marinai d'Italia. Abbiamo dato soltanto voce a un diritto, il diritto dei diversamente abili a vivere il mare, a viverlo dignitosamente. È la maniera questa più giusta per tutelare i loro bisogni, per tutelare la necessità di integrarsi sinergicamente ai normodotati. Perché essere diversamente abili significa essere normali.